Sicché Montemagno, l'ho trovata molto ganza la tua strategia su LinkedIn. Oddio me, non ho nessuna strategia su LinkedIn. Eh, ma è immagantata, non ti mannaggia. Come se tu fai a essere nell'1% dei profili più visti. Qual è il trucchetto? Honesty? No idea. Mi hanno segnalato sta cosa. E in effetti è vero, sono tra i profili più visti del mio netto su LinkedIn. Il famoso 1%. Sono sempre lì, il terzo, il quarto, il secondo, primo o quarto, quindi non so così. Allora non l'ho neanche mai guardato. Però come si fa allora ad andare in cima a LinkedIn? Metti che uno lo voglia fare. Voglia essere al top, all'elite del gigante inventato da Ray Doffman. E come fa? Così almeno in quell'1%. Poi tutti lo cercano, tutti lo cercano, tutti lo vogliono e tutto il mondo lo vorrà lavorare per lui. Il consiglio A è che ci sono due modi, lo sapete no? Di affrontare le piattaforme. O vai dritto, super verticale, specifico su quella piattaforma. E allora fai tutte le tue strategie, LinkedIn, ottimizzazione, piru, piru, miru, 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 miru. Imiayuara. Ma dite la verità, lo zio Monti. La vedevate, mi miayuara, voi da bambini. Servizio ciclone, tutti questi servizi pazzeschi. Non poteva semplicemente prendere e tirare la palla dall'altra parte. No! Doveva ogni volta inventare servizio del lancio delle cose. Stavo dicendo? O vai dritto verticale su una piattaforma specifica e fai solo quelle, diventi bravissimo in quello, sei tutto e tu ti maneggi da fare i trappolamenti. Oppure quello che ho fatto io, diciamo, involontariamente, ti posizioni bene da un'altra parte, nel mio caso è Facebook, e a quel punto, superata una certa soglia di visibilità, la gente poi inizia a cercarti anche da altre parti. Come dire, se facessi il medico e uno venisse da me col male al ginocchio, probabilmente lo guarderei e gli direi, ascolta, vuoi guardare il male al ginocchio? Benissimo. Agita le orecchie. Ok, dottore, però c'ho male bestie al ginocchio. Agita le orecchie. Copiosamente, copiosamente. Dumbo jumbo, ce l'hai presente? Quella cosa lì. Punto B di questa strategia non strategia, invece, è il solito, è il più facile di tutti. Da febbraio 2015, ogni giorno, ho pubblicato, anche su LinkedIn, il mio videuccio. E non proprio tutti i giorni, ad eccezione dei giorni in cui sono via per un evento, sono via per qualcosa, iniziative, magari faccio una mini vacanzina, o quello che è, o magari sto male di brutto e non riesco neanche a parlare, allora in quel caso non posto. Ma tutti gli altri giorni, morisse mamma di Mazzini Gazzetta, posto qualcosa. Che, per una qualche strana ragione, piace a qualcuno, e quindi a quel punto la gente dice, ah però non male, lo segnala a qualcun altro, lo guarda, il passaparola, quella che in inglese si chiama consistency. Consistency is the key. Sentirete questa frase ogni 20 secondi. Consistency is the key. Se non riesci a sfondare su LinkedIn, perché proprio ci vuoi sfondare su LinkedIn, perché la tua vita dipende da LinkedIn, prova sta non strategia, prova a essere costante per un annetto, ogni giorno metti dei contenuti, i migliori possibili, cerca di essere veramente utile, non far finta di essere utile, prova davvero a essere utile in quello che tu pensi di poter fare, e poi va a me, zabbè, le statistiche non sono il massimo, ma come diceva Toto Cuttugno, uno su mille ce la fa. No aspetta, chi è che lo diceva uno su mille ce la fa? Pati Prava. No, no, Gianni, Gianni, Gianni Morandi. Uno su mille ce la fa, ecco. Devo che non faccia il cantante. Torno su LinkedIn. Grazie a te.